Può accompagnare solo Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti 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 Io capisco i 728 dollari del night perché diciamo siamo tutti uomini e quindi capisco benissimo però ci sono 7.280 dollari di acquisti su internet e quindi ho visto una lavatrice, una lavatrice, una playstation, un orologio, una televisione, un frullatore, due telefonini, una collana, cosa cazzo non so, queste cose, cos'è sta roba? Grazie a tutti 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 Grazie a tutti